Come aggiungere così una risoluzione allungata, uno stretch su Fortnite, quindi in questo caso se ricevi problemi ad inserire così questa nuova risoluzione è possibile farlo in due metodi grazie al documento nella configurazione di Fortnite e nel pannello di controllo di Nvidia, quindi in descrizione ti ho lasciato così il pannello di controllo di Nvidia per chi usa una scheda grafica Nvidia, vai direttamente su modifica della risoluzione ed eccola qua. Ovviamente se non ti esce personalizza clicca sul tuo computer qua pc la tua risoluzione e vai a schiacciare applica e fai si ed ecco che esce fuori personalizza, clicchiamo su personalizza, crea risoluzione personalizza e qui puoi creare la tua risoluzione. Ovviamente le migliori risoluzioni per Fortnite sono queste, vi consiglio l'ultima 1620x1080 quindi vai a scrivere 1620x1080 e fai prova. Facciamo così Tu una volta creato così questa risoluzione, prima di entrare su Fortnite, imposta questa risoluzione sul tuo monitor, avvia Fortnite e quando entri nello schermo, schermo proprio per modificare le risoluzioni, troverai la tua 1620x1080, la tua nuova risoluzione. In questo caso va applicata, quindi ovviamente ho fatto il ripristino e quindi non me l'ha salvata qua dentro, quindi va applicata per essere salvata qua dentro. Se non vuoi usare questo metodo è possibile andare direttamente su appdata, quindi scrivi esegui. Andiamo su appdata, appdata per cento, appdata per cento e fai ok. Va in appdata, va in local, scendi fino a giù, vieni a trovare così la cartella di Fortnite game, save, config, windows client, game user settings. Scendi fino a giù, come puoi vedere queste sono le risoluzioni, le trovi proprio fino a giù, quindi vai un po' più giù, vai un po' più su, 1920x1080, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi in questo caso vai a sostituire così le risoluzioni che ti servono, come queste qua, le metti al posto di queste qua. Una volta fatto vai su file e salvi così il documento. Mi raccomando devi fare la modifica su queste 8 risoluzioni. Così facendo cambierai la risoluzione su Fortnite. Quindi grazie a tutti per questa versione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!